Strano soprattutto che a lui si imputassero le colpe di un Inter perdente, come se solo un successo europeo consacrasse il campione, che Ibra naturalmente è già. Perché se è vero che non c'era nell'Inter piglia tutto quella del triplete della Champions tanto sognata dall'Inter e da lui, è anche vero che Ibra ha solo vinto ovunque sia stato. Ibra Imovic, se tu fossi andato al Milan, adesso il Milan sarebbe a meno 22 o sarebbe un po' più in alto in classifica? Non lo so, dove sono andato abbiamo vinto. Sempre, in tutti i campionati lontano dalla Svezia in cui è nato, già dall'inizio con l'Ajax, due titoli olandesi nel 2002 e nel 2004. Quanto basta per presentarsi in Italia già da vincitore e ripetersi subito anche con la Juventus. Il bianco-nero diventa oro e poco importa che dei due scudetti ottenuti sul campo non gliene sia rimasta nemmeno uno dopo le sentenze calciopoli. Gli è bastato cambiare il colore delle strisce, rimanere nello stesso paese e vincere ancora, in nera azzurro, dopo aver sfiorato proprio il rosso-nero. Con l'Inter, infatti, ottiene i primi tre scudetti dell'era di Massimo Moratti, prima di andare in Spagna, dove guarda un po', vince, ma non convince. Chissà perché, visto i quattro gol in Champions e i sedici nella Liga, altro titolo ottenuto con il Barcellona, neanche a dirlo al primo colpo. Scontato adesso che sogni anche l'altra Milano. Con lui, il Milan, secondo Gagliani e non solo, può tornare a competere ovunque, in campionato, naturalmente, e perfino in Champions. Quella maledetta per Ibra, quella che ha inseguito ovunque, a costo di fuggire, con mal di pancia, in posti lontani. Proprio quella Champions, che dalle parti di Milanello, invece, piace tanto, dove la musichetta, in passato, ha plasmato squadre d'eroi. Eroi vincenti alla Ibra, e verrebbe quasi da dire pazienza per la Champions, se mai Ibra regalasse ancora un nuovo scudetto. Chissà, chissà se si accontenterebbero adesso. Per Sky Sport 24, Riccardo Re. Grazie.